Utilizzerò il tempo che ho a disposizione per illustrare la nostra relazione di minoranza e per illustrare alcuni aspetti di questo decreto che noi riteniamo un decreto sbagliato e profondamente dannoso. Ovviamente ci sarà poi il dibattito in aula e ci auguriamo che venga previsto, senza la posizione di alcuna fiducia da parte del Governo, perché credo che vi siano numerosi aspetti di natura tecnica che meritano di essere contestati e che ovviamente noi contesteremo. Presidente, la nostra è una relazione di minoranza, consapevoli del fatto che la nostra è una posizione di minoranza all'interno del Parlamento, ma assolutamente consapevoli di avere una posizione di maggioranza fuori dal Parlamento. Quindi siamo minoranza su questi temi dentro quest'Aula parlamentare, ma siamo maggioranza fuori dal Parlamento in mezzo ai cittadini, perché siamo assolutamente convinti che i cittadini la pensino come noi. Innanzitutto credo che sia opportuno dare il giusto nome e il giusto cognome a questo decreto. Chi ha modo di guardare la definizione che viene apposta al decreto probabilmente non riesce a capire qual è la vera natura del decreto. Quindi ci pensiamo noi, e lo dico al relatore e lo dico al Governo, a definire col proprio nome e col proprio cognome questo decreto. Questo è un decreto svuotacarceri, questo è l'ennesimo, è il quinto decreto svuotacarceri, è il quinto indulto mascherato che viene proposto e che viene portato all'interno dell'Aula parlamentare da parte del Governo, da parte della maggioranza, da parte del Partito Democratico. Ed è, oltre ad essere uno svuotacarceri, perché garantisce impunità nei confronti di chi commette reati, in modo particolare con riferimento all'articolo 8 e alle misure cautelarie che vengono in parte totalmente smantellate e totalmente azzerate, ma questo decreto ha un altro nome e ne rappresenta uno degli aspetti più vergognosi rispetto ai quali noi muoveremo e muoviamo e lo faremo anche in Aula delle dure contestazioni. Con questo decreto si garantisce una paghetta, si garantisce una mancia, si garantisce un rimborso, si garantisce un risarcimento a coloro i quali sono in carcere. E questo lo dico e lo ripeterò più volte proprio perché chi ci ascolta nel silenzio assoluto del dibattito, perché oggi il dibattito della politica italiana sembra interessato e concentrato solo sulla legge elettorale da un lato, piuttosto che sulla riforma del titolo quinto dall'alto lato, ben sapendo e consapevoli che i problemi del Paese sono probabilmente alti, anzi sono sicuramente alti senza nulla togliere all'importanza di questi temi, però su questo decreto mi sembra che il silenzio e tra l'altro la presenza assolutamente poco numerosa all'interno di quest'Aula ne conferma il fatto che non si sappia di che cosa si sta discutendo, che per l'ennesima volta questo Governo e questa maggioranza ritiene il problema del sovraffollamento delle carceri, l'unico problema in materia di giustizia, perché in questi quattordici mesi noi abbiamo assistito unicamente a riforme che guardano ai 60 mila che stanno in carcere senza occuparsi e senza interessarsi ai 60 milioni di italiani che sono fuori dal carcere. Quindi una riforma seria della giustizia per coloro i quali fuori dal carcere, quindi cittadini onesti, cittadini per bene, cittadini che rispettano la legge, cittadini che rispettano le regole, c'è il totale disinteresse da parte di questo Governo. Governo, governi, dal Governo Monti al Governo Letta al Governo Renzi, che sono caratterizzati da questo punto di vista da un unico denominatore comune, quello di occuparsi e di preoccuparsi del problema del sovraffollamento delle carceri, di garantire impunità a chi rimane in carcere, a chi ha commesso dei reati secondo un principio per noi sacrosanto, principio che viene da tutti ricordato durante le campagne elettorali ma che poi viene sistematicamente smentito dai fatti, che è il principio della certezza della pena, principio secondo il quale chi sbaglia paga e se la sanzione e la pena prevista per l'errore, per l'illecito, per il reato commesso. È il carcere, il carcere deve essere e il carcere deve essere mantenuto. La Lega che cosa chiede, Presidente? La Lega chiede più sicurezza e più ordine pubblico e con questo decreto voi andate a smantellare quei minimi livelli di garanzia, di sicurezza e di ordine pubblico. La Lega chiede tolleranza zero nei confronti di chi commette reati. Con questo decreto andate ad approvare l'ennesimo svuotacarcere, l'ennesima impunità nei confronti di chi reati li commette. La Lega chiede la lotta e il contrasto all'immigrazione clandestina. Avete depenalizzato in uno di questi decreti il reato di immigrazione clandestina insieme ad altri decreti. La Lega chiede più risorse per la sicurezza, più risorse per l'ordine pubblico. I cittadini devono sapere che voi trovate 20 milioni di euro, almeno 20 milioni di euro e saranno molti di più e saranno molti di più, perché noi con questo decreto non solo pagheremo gli otto euro al giorno per detenuto, ma saremo poi costretti, e sfido il relatore e la maggioranza a sostenere il contrario. Pagheremo questa procedura degli otto euro che ci siamo portati al nostro interno, ma pagheremo anche i ricorsi che sono stati presentati presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Pagheremo sia gli uni e pagheremo gli altri. Trovate otto euro per i detenuti al giorno, che sono 240 euro al mese, che sono più di 3 mila euro all'anno, ma non trovate le risorse per le forze dell'ordine. È polemica di questi giorni quella avanzata dalle forze dell'ordine che contestano al Governo un miliardo e mezzo di tagli sul fronte della sicurezza, un miliardo e mezzo di tagli alle forze dell'ordine, un miliardo e mezzo di tagli a coloro i quali garantiscono la sicurezza dei cittadini. Trovate gli otto euro per i detenuti, trovate otto euro per chi ha commesso un reato, trovate otto euro per chi si è macchiato di un reato nei confronti e del singolo individuo e nei confronti della società e della collettività, ma non trovate, come spesso ci viene ricordato, otto euro, magari per gli esodati, magari per i cassi integrati, magari per i pensionati. La Lega ha presentato alcuni emendamenti che vanno esattamente in questa direzione. Ci sono 20 milioni a disposizione da parte del Governo. Bene, mettiamo questi 20 milioni a disposizione di chi ne ha bisogno, nei confronti dei più deboli. E i più deboli non sono coloro i quali stanno in carceri, i più deboli sono quelli che vivono correttamente, che vivono rispettando le leggi e che vivono fuori dal carcere perché hanno un comportamento retto e responsabile. E il quinto decreto svuota carceri? Sì, tre decreti, un disegno di legge, quello sulla messa alla prova e sulla depenalizzazione dei reati è quello e l'altro è quello sulle sostanze stupefacenti. Avete rimesso in libertà 10 mila spacciatori, il piccolo spacciatore, il reato di piccolo spaccio è diventato reato autonomo e con la nuova fattispecie del reato di piccolo spaccio con la pena prevista a quattro anni non c'è più il carcere nei confronti del piccolo spacciatore. Il 90% di chi spaccia droga sono piccoli spacciatori e grazie a un vostro decreto non finiranno più in carcere. Avete previsto in un decreto precedente la liberazione anticipata speciale da 45 a 75 giorni di sconto, l'ennesimo regalo, l'ennesimo sconto su un anno di carcere, il detenuto che ha commesso un reato, che ha commesso un crimine nei confronti della società farà sette mesi in carcere e cinque mesi di abbuono e cinque mesi di regalo e cinque mesi di beneficio. Avete previsto che gli ultimi 18 mesi, anziché scontarli in carcere, possano scontarli ai domiciliari? Avete ampliato le misure alternative al carcere, prevedendo e obbligando il magistrato di sorveglianza a disporre il braccialetto elettronico, salvo poi accorgersi che i braccialetti elettronici a disposizione sono solo 2.000, sono finiti, non sono sufficienti a fronte di una convenzione, una convenzione vergogna, una convenzione capestro, una convenzione che ebbe modo di scatenare un dibattito fortissimo all'interno di quest'alla tra l'ex ministro Cancelliere e l'ex ministro Severino, convenzione che ci costa 10 milioni all'anno, convenzione rinnovata poc'anzi. Avete depenalizzato la politica delle depenalizzazioni, tra cui anche il reato di immigrazione clandestina, ma anche altri reati. Avete azzerato, ed è l'altra vergogna, insieme al rimborso e al risarcimento di 8 euro a detenuto, avete azzerato le misure cautelari. Io credo che sulle misure cautelari andasse fatto un discorso complessivo, lo si era tentato di fare attraverso un disegno di legge, disegno di legge che per incapacità della maggioranza si è arenato. Adesso inserite questo articolo, l'articolo 8, rispetto al quale vengono completamente cancellate le misure cautelari laddove il giudice, con un giudizio prognostico, ritiene che nei confronti dell'imputato debba essere applicata una pena inferiore a tre anni. Questo cosa significa? E lo diciamo in maniera chiara all'interno di quest'Aula, visto che spesso e volentieri all'interno di quest'Aula abbiamo discusso, ad esempio, della tutela dei diritti delle donne, abbiamo discusso di femminicidio, abbiamo discusso e approvato con il concorso da parte di tutti della Convenzione di Istanbul. Esattamente in questo momento, grazie all'applicazione, siccome questo è un decreto, siccome questo è un decreto ed è già in vigore, essendo stato pubblicato in gazzetta ufficiale, esattamente in questo decreto ci sono decine, ci sono centinaia di criminali, ci sono decine e centinaia di soggetti che si sono macchietti del reato di stalking, di maltrattamenti in famiglia, di furti e di rapine che grazie all'effetto di questo decreto sono in libertà. O non vengono messi in carcere, proprio perché il giudizio prognostico porta ad una condanna inferiore a tre anni, o se sono in carcere per questi reati, stanno esercitando l'istanza di scarcerazione e stanno in questo momento venendo rimessi in libertà. Esattamente in questo momento migliaia, decine, centinaia di criminali per effetto di questo decreto vengono liberati, rimengono messi in libertà e quindi tornano, come avviene nella grande maggioranza dei casi, a delinquere. E quindi è evidente, Presidente, che uno Stato che si occupa e dà credito e dà attenzione e si preoccupa esclusivamente di coloro i quali stanno in carcere, anziché preoccuparsi di coloro i quali stanno fuori dal carcere, non è uno Stato serio, non è uno Stato credibile, è una maggioranza che reitera decreti come questo, se ne deve ovviamente assumere la responsabilità di fronte al Paese. Se dobbiamo scegliere se stare dalla parte del criminale, se stare dalla parte del delinquente, fermo prestando la dignità anche il detenuto a una dignità umana che va assolutamente preservata, ma un conto è preservare la dignità del detenuto, un conto è garantire al detenuto più diritti rispetto a coloro i quali invece i diritti vengono meno tutelati e sono in modo particolare le vittime dei reati. Notiamo e percepiamo da parte di questa maggioranza allargata, da parte del Governo, da parte del Partito Democratico, un'attenzione esclusiva nei confronti dei detenuti e un disinteresse totale, assoluto, un menefreismo di maniera assoluto nei confronti invece delle vittime dei reati. La Lega ha fatto una proposta di legge in materia di giustizia che non riesce a varcare le soglie della Commissione perché trova il blocco costante da parte del Partito Democratico, che è quello di dare un po' più di attenzione nei confronti delle vittime dei reati. Abbiamo proposto che chi si macchia di reati di particolare gravità sociale, ad esempio chi si macchia del reato di ergastolo, non può accedere al rito abbreviato e quindi non accedendo al rito abbreviato non beneficia e non deve beneficiare dell'abbattimento di pena di un terzo. Questa proposta che è una proposta di buonsenso, che tutela chi reati li subisce e che tutela le vittime dei reati non riesce a varcare le soglie della Commissione. Questo decreto rappresenta l'ennesima resa dello Stato di fronte alla criminalità, rappresenta l'ennesima sconfitta dello Stato, lo Stato che abdica a una delle proprie funzioni che è quella di garantire la sicurezza dei cittadini. Se dobbiamo scegliere, se la Lega deve scegliere se stare dalla parte del criminale o stare dalla parte del poliziotto, la Lega sceglie tutta la vita di stare dalla parte del poliziotto. Se ci sono 20 milioni di euro da investire, la Lega sta dalla parte dell'investimento nei confronti di chi ci garantisce la sicurezza. Questo decreto va a creare problemi non solo alle vittime dei reati, non solo va ad annichilire il principio della certezza della pena, non solo va ad umiliare coloro i quali i reati li subiscono, non solo va a umiliare il lavoro delle forze dell'ordine, non solo va a umiliare il lavoro della Polizia Penitenziaria. Non sono certamente 200 agenti in più che risolvano il problema della carenza di organico della Polizia Penitenziaria. Questo decreto va a creare problemi, va a creare disagi anche agli stessi magistrati, perché sappiamo benissimo lo suo relatore che conosce i problemi del carcere e che oggi il magistrato di sorveglianza a causa e per colpa dei decreti che avete approvato è in grave difficoltà, perché è oberato di compiti, è oberato di funzioni e quindi questo non facilita sicuramente anche quel processo di deflazione del carico all'interno dei Tribunali. Presidente, un decreto che va unicamente fronteggiato con forza. La Lega orgogliosamente l'ha fatto in Commissione, la Lega orgogliosamente l'ha fatto nel passato sugli altri decreti, la Lega Orgogliosamente, da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista tecnico, lo farà nel Parlamento durante il dibattito. State smantellando le politiche di sicurezza, state smantellando quel minimo di sicurezza che era e che veniva garantito ai nostri cittadini. Come si affronta il problema del sovraffollamento? Ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo ripetuto, ma continuate a non ascoltarci. Oggi il 30% dei detenuti presenti nelle nostre carceri sono stranieri. Abbiamo chiesto sistematicamente, così come fece all'epoca il Ministro Castelli, di sottoscrivere accordi bilaterali con i Paesi esteri per far scontare ai detenuti stranieri la pena del proprio Paese. Nulla, il nulla più assoluto dal Ministro Severino, il nulla più assoluto dal Ministro Cancellieri, il nulla più assoluto dal Ministro Orlando. Ci venite a dire che gli otto euro ce li chiede l'Europa. E questa è la reiterazione del vostro Stato di vassallaggio nei confronti dell'Europa. L'Europa comanda e il Governo italiano esegue. Continuate ad andare in Europa col cappello in mano a prendere ordini dalla Merkel di turno o da Juncker di turno. Noi non ci stiamo. Noi non possiamo accettare questo tipo di politica. E ancora sarà oggetto, Presidente, di grande dibattito all'interno dell'Aula. Vogliamo capire perché non se ne parla più. Questo è un Paese dove si dà grande risalto a delle inchieste, giustamente. Si sta parlando molto della vicenda dell'Expo, della vicenda del Mose. Nessuno parla più di una battaglia che insieme a un altro movimento politico. E lo dico perché è giusto riconoscere a chi ha fatto con noi certe battaglie al Movimento 5 Stelle sul problema del piano carceri. Nel 2010 sono stati stanziati 680 milioni di euro per il piano carceri, voluto dalla Lega, voluto dall'ex Ministro della Giustizia, attuale Ministro dell'Interno, Angelino Alfano. 680 milioni per risolvere definitivamente il problema del sovraffollamento delle carceri. Perché per noi all'epoca e per la Lega ancora oggi, probabilmente per il Ministro Alfano oggi non vale più quello che si decise nel 2010, il problema del sovraffollamento lo si affronta, se lo si vuole affrontare, attraverso un serio piano di edilizia carceraria, costruendo nuove carceri o ampliando e modificando le carceri i padiglioni che ci sono. Presidente, di quei 680 milioni di euro, 200 sono stati tolti, ne sono rimasti 500. A oggi, a quattro anni di distanza, dopo la nomina di un commissario straordinario, tra parentesi, il commissario straordinario che qualche settimana fa è stato indagato insieme ad altre otto persone, io credo che si debba finalmente mettere una parola di chiarezza su questi 500 milioni di euro per il piano carceri. Credo che il Parlamento debba sapere e capire, al di là dell'inchiesta della magistratura che farà il proprio corso e che noi rispettiamo, credo che da un punto di vista politico il Parlamento debba sapere questi 500 milioni di euro che fine hanno fatto. I reati che vengono contestati al commissario straordinario per le carceri e ad altri funzionari del Ministero sono contestazioni gravi, sono contestazioni gravissime. A noi risulta che di quei 500 milioni di euro non sia stato prodotto alcun posto in più all'interno delle carceri. Spendiamo i soldi per fare le carceri, le carceri non vengono fatte, non vengono fatte perché c'è un'inchiesta penale, non vengono fatte perché nei confronti di chi doveva gestire questa emergenza vi sono delle gravissime accuse a proprio carico che ha portato la Procura di Roma ad aprire dei fascicoli, però in compenso continuiamo ad approvare provvedimenti che garantiscono impunità, continuiamo ad approvare decreti svuotacarceri, continuiamo ad approvare continuate perché la Lega ovviamente non è corresponsabile di questo crimine politico, continuate ad approvare decreti che garantiscono impunità, continuate ad approvare decreti che rimettono fuori quelli che dovrebbero stare dentro e che lasciano fuori quelli che dovrebbero stare dentro. Allora io credo Presidente che se avessimo avuto una seria applicazione del piano carceri oggi noi non ci troveremmo costantemente e ripetitivamente ad approvare provvedimenti come questi. Quindi sul piano carceri qualcuno si deve assumere la responsabilità. La responsabilità penale verrà accertata davanti alla magistratura, la responsabilità politica a fronte di continue richieste di chiarimenti da parte nostra. Più volte i ministri che hanno preceduto, i predecessori del ministro Alfano ci hanno garantito che dovevano essere pronti qualcosa come 10 mila posti in più all'interno delle celle, all'interno delle carceri. Presidente, concludo, il tema è evidentemente un tema abbondante, è un tema che porta ovviamente il dibattito a scaldarsi perché io credo che in questo momento è dove abbiamo un aumento esponenziale del numero dei reati, in modo particolare reati di grave allarme sociali, reati che vanno a colpire in modo particolare i cittadini. Mi riferisco ai furti, mi riferisco alle rapine, mi riferisco ai borseggi, tutti quei reati che vanno soprattutto ad invadere la sfera personale e umana dei singoli individui nel momento in cui i cittadini chiedono più sicurezza, nel momento in cui il nostro Paese è invaso da un fenomeno di immigrazione clandestina dovuta alla responsabilità del Governo e dovuta all'operazione Mare Nostrum, in un momento in cui i cittadini chiedono di essere più sicuri nelle proprie case, nelle proprie abitazioni. Io credo che sia folle, sia assolutamente folle e sbagliato approvare l'ennesimo decreto, l'ennesimo decreto svuota carceri che rimette in libertà chi dovrebbe stare in carcere e che premia addirittura quelli che hanno commesso un reato nei confronti della nostra società. Chiudo, Presidente, dicendo che in questi mesi abbiamo assistito al dibattito, è stata portata avanti l'istanza da parte di alcuni movimenti politici del cosiddetto reddito di cittadinanza. Se ne può discutere, l'unica cosa certa è che con questo decreto andiamo, andate, ve ne assumete la responsabilità. La Lega ve lo impedirà a garantire un reddito di delinquenza nei confronti dei criminali. La Lega non ci sta, la Lega non può permettere che costantemente si dia attenzione alle persone e vi disinteressate in maniera sistematica e categorica nei confronti delle persone oneste, nei confronti delle persone perbene e di chi la legge la rispetta.